allora ci siamo teoria sì allora mamma mia mi sta salendo il mal di testa porca trotta vediamo va l'audio si sente allora allora l'audio va e niente oggi che è domenica per rilassarmi un attimo farò demolish e build o hand build 2017 niente non l'ho ancora giocato vediamo un po se che cazzo sono ancora in live ma io non capisco allora suona in live sì 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 porco can porco can che volume devo abbassare assolutamente devo abbassare assolutamente la musica porca miseria ciao cominciamo io non so come cazzo si sente vediamo un po la nostra azienda è piena di debiti debiti dobbiamo far ripartire gli affari qua non so su orco cazzo che spaventa allora la nostra azienda è piena di debiti e dobbiamo far ripartire gli affari io mi occupo di documentazione quindi personalmente non posso aiutarti ma ho un ma ho un paio di suggerimenti il miglior modo per guadagnare e stipulare contratti di demolizione sali sul pick up e segui il punto di riferimento per iniziare il tuo primo contratto ok oh graficamente non sembra malvagissimo vediamo un po gioco audio musica io la tolgo via basta che se no mi fa morire postazioni di gioco lingue del ma non è vero è in italiano che cazzo gli dici vabbè io non tocco ok modifica profilo crediti non c'è la grafica è qua 1900x1080 ok ultra è già tutto al massimo il gioco ha già fatto tutto grafica che cazzo fa google da me vediamo un po' si sente tutto ok va funziona ah mentre che sono qui ringrazio cp findus ah capitano findus 5666 per l'iscrizione quando non ero in live non ringrazio visto che è l'ultimo che si è iscritto escape menu rsensi ok io lo lascio aperto l'aiuto allora per entrare nella macchina t no usa i parcheggi per trasportare velocemente i veicoli acquistati puoi usare anche quando p ecco ps quando i veicoli sono bloccati e che cazzo vuol dire non lo so eh come faccio a entrare in macchina eh f ok con f bello allora io vorrei capire dove cazzo devo andare devo andare menu la mappa c'è una mappa posso ingrandire la mappa cambia camera cambia stazione a ok escape menu ah forse è qua la mappa si ehi dove cazzo devo andare giocatore bo 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 bulldozer carica compatta bulldozer non scoperto non scoperto apriamo andare qua vediamo un po' ok scoperta l'azienda ah devo andare laggiù scenario ok o per ora va a 60 frame tranne quando fa il caricamento che scende a 50 ma i simulatori di solito sono ottimizzati con la minchia potrei anche avere una orca troia una titan x in sly e sto gioco laggarebbe lo stesso allora dobbiamo andare in scenario andiamo in scenario carina sta cosa del free roaming così carino è di qua questo qua si mi sa di si tra l'altro ma l'antiagliasing e tutte le cose come sono che non ho guardato gioco grafica tutto ultra schermo intero riflessi dell'acqua la lasciano non mettiamole va che poi magari mi sminchia tutto il gioco ezza per uscire allora eh così affitta i turisti che arrivano con le tende è un buon modo per guadagnare veloce con uno sforzo minimo acquista posso acquistare vuoi acquistare accetta non è abbastanza denaro vaffanculo ah quindi non è qua che dobbiamo andare che cazzo ho fatto ok ho cambiato boh andiamo ancora a capire bene come si gioca a sto gioco la prima volta che ci gioco allora la live ci sta se ci sta ci sta tutto come mi disse Luca devi concentrarti su un solo gioco per io eh come fai a farti il pubblico eh lo so ma io non c'ho test di concentrarmi solo su per esempio il DVD o che cazzo ne so Overwatch voglio concentrarmi su un po' di robe dai prima o poi qualcuno mi cagherà allora 60 frame ok scenario di qua caricamento ok e adesso devo andare ancora avanti 50 km devo fare aspetta di qua e la miseria abbiamo bocciato contro un Audi no forse era un Mercedes ah c'è anche la benzina figo ok mi sa che siamo arrivati da qualche parte T ok i contratti sono la fonte principale di entrate della tua azienda ogni contratto richiede determinate macchine o attrezzature interagisci con la bacheca degli annunci per sapere i dettagli ok uno dei nostri magazzini ha bisogno di ristrutturazione le pareti interne degli uffici sono da abbattere liberati anche delle vecchie tanniche durante il lavoro accetto il contratto è il nostro primo contratto da demolitore ok allora quindi io devo demolire laggiù sta roba qua non la devo rompere devo prendere le tanniche io so sta roba le tanniche non lo so io sta roba qua è una tannica a me sembra una bombola però non si sa mai devo buttarla qua dentro ah si è una tannica e dai non salta ok salta prima pigliare le tanniche poi butto giù tutto qua dietro questo hop eccone una piano piano buono buono maina non è un product placement ok cazzo anche perché mi pagassero per cantare invece no allora ancora due tanniche poi spacchiamo il mondo tanniche dove state tanniche quella caletto a 47 frame per secondo su una 980 ti veramente 50 frame la dunque che cazzo mi fa venire la scheda video a 99 gradi sto gioco ma non ce ne sono più altre di tanniche c'è scritto di prenderne 4 ne ho trovate 2 qua eccone una eh lo sapevo io F perché i simulatori devono ottimizzarli con le chiappole dunque ne manca una dove cacchio sarà l'ultima dove me l'hanno piccata qua dietro forse noop ma tra l'altro veramente quanto scheda video ah ma no 63 gradi pensavo peggio eh la sta facendo faticare qua sopra posso saltare eh volevi volevi l'ultima tannica dove cazzo sta forse qua dentro no e io se voglio spaccare questo ah va c'è quel martello manca una tannica tannica dai non è possibile dove me l'hanno inculata la tannica vediamo un po' se da qua sopra si vede qualcosa dai ne manca una ma sono cieco io non lo so qua non ci sta ma non è possibile che uno deve diventare matto per una tannica qua ma no ma che cazzo ah io spacco già una colonna guarda che figata ma non è possibile demolisci consegna ti sensi del muratore si si quello va bene va bene ma io vorrei ah eccola ma bastarda era nascosta stronza ok abbiamo preso tutte le tanniche adesso demoliamo spacchiamo facciamo il sensi del muratore chiudi ah ma non va R per i sensi del muratore eeeh l'altro che i sensi del ragno di 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 spiderman è una spacca questa qua anche con i sensi del muratore spacchiamo tutto 2 dollari a martellata spacca e ma sto gioco qua in sconto ha 2 euro e 50 no 3 euro forse 2 euro e 9 euro sono i saldi del campodanno cinese vabbè 3 euro li vale c'è un prezzo pieno mi sembra che una 20 non li vale forse la becca adesso abbiamo visto poco e spacca tutto spacchiamo le colonne vai ok ne mancano 2 vai vai no in realtà è sbagliato ma ancora una da rompere io la rompo vaffanculo vai intanto continuo a pagare guardate qua che casino che abbiamo fatto abbiamo completato il lavoro e una volta che l'ho completato premi enter per finalizzare concludi il contratto bene il nostro primo contratto fatto posso prendermi l'atto 2 secondi eccomi qui dunque dunque e adesso chiamate in arrivo premere enter ottimo lavoro capo continuo a prenderne altri contratti qui vicino bene chiudi quindi nuovo tutorial livello di licenza t ok ah licenze quindi posso fare tipo il menu contratti no ah licenza è qua ok acquisisce esperienza ah ci sono pure i livelli figata sblocchi camion pistola sparachiodi e nuovo lavoratore dunque mappa vediamo ma io posso capire non scoperto quindi io da qua da andare lì proviamo un po' prendere la macchinetta qua ah però carino è come simulatore per ora mi dice pure dove devo andare è pieno di particolari guardate qua il gira di là e se finisco la benzina che cazzo capita scoperta proprietà 4 ecco allora abbiamo da completare ok abbiamo comprato della terra in zona industriale ma è stato ok disastroso ma è è in stato disastroso livello del terreno elimina le erbacce in modo da migliorare e probabilmente usando il bulldozer ok eh tradotto un po' male puoi già che leggo alla cazzo allora non devo spaccare sta roba dov'è il bulldozer devo posso toglierlo sta roba io tipo la metto qua dentro ok ma ah non ho tutorial ti evita sì l'ho capito passa sopra forse devo andare qua c'ho il bulldozer pick up bulldozer consegna dov'è e dov'è eccolo qua no non posso entrare di qui di qua sì oh la miseria oh la miseria la miseria allora eh tigo guarda lì tutta la cara che si spiana ok schiariamo il mondo schiariamo il mondo dai ok qua mi sa che più di così non possiamo spaccarlo cioè abbassarlo vediamo qua questo così quindi devo spaccare questi cespugli mi sa di sì ehm quattordici addirittura vabbè cinque li abbiamo già buttati giù ahia c'è la bombola dai ci mancano due pazzo questo è tolto e l'abbiamo fatto vai premiamo enter concludi il contratto è un altro contratto fatto ma cazzo l'ho cliccata anche qua l'acqua ah 979 dollari per tutto questo minchia allora mi metto lì faccio anch'io il muratore c'è di nuovo il cellulare che chiama alcuni contratti richiedono strumentazioni speciali avanti segui il punto di riferimento fino al negozio compra una sega elettrica in ogni caso puoi sempre prendere un taxi per ogni location visitata in precedenza apri una mappa e clicca sul logo che ti interessa ma no ma se non è troppo lontano devo farlo per forza chiudi vediamo un po' tipo la mappa mappa ma è qua vicino ah no ma forse dov'è dove si va forse qua ma non sembra lontanissimo ma andiamo in macchina che cazzo piglio il taxi taxi a fare giriamo di qua e là vai 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 oh per ora mi sta piacendo sono i migliori 3 euro spesi della mia vita peccato per i cali che ha ogni tanto io non capisco ma forse anche perché sto facendo la live se no magari senza live va va meglio vai 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 e là lo sbagliamo spacchiamo il mondo scenario dai ci arriviamo dunque qua già dai minchia ma che ferramenta di merda F devo comprare la segha elettrica acquista si ok mi chiamano di nuovo a volte dovrei andare in altre località a stipulare i contratti segui il punto di riferimento e fino a lì c'ero arrivato pure io allora aiuto di qua di qua di qua ah volevo vedere se buttava giù i cartelli o no signore si tolgo dalle balle che passo io quella abbiamo già 1765 euro cioè dollari circa 1700 euro più o meno ah lì come si guida da bene stavo dicendo quella no 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 ok niente 60 fissi in live è impossibile 60 58 tutto così però vabbè è giocabilissimo anche in live dai io spero solo che non mi stressa troppo la cpu allora ah è qua sotto e adesso c'è la stradolina stradina di qua si si intanto abbiamo il pick up andiamo fuori strada fare un po' di rally ok ok scoperta proprietà 4 allora le vecchie capanne iniziano a cadere a pezzi dobbiamo rimuovere prima che qualcuno si faccia male accetta il contratto dobbiamo spaccare le casette allora taglia bene allora andiamo a tagliare ah laggiù dobbiamo tagliare ma devo tagliare la casa anche con questo no mi sa che devo buttarle giù col bulldog forse è questo dobbiamo tagliare aiuto mi ero incastrato si vabbè il taglio non è molto realistico dai apprezzo l'impegno del creatore del gioco e taglialo però stai a pa oh stagliato stagliato ah sono rilassanti questi simulatori qua così e non è manco orribile carino carino mi piace fa pure leggermente della fisica non male come cosa oh eh no io finisco di tagliare non mi piace lasciare le cose a metà allora cos'è successo che saltellavo invece le case non posso stagliare no devo ah forse col martello no c'è un parcheggio mi sa qua un po' vedi yes F il bulldozer eccolo lì che compare all'improvviso ah no F ah quello lì mi sa che mi spacca il cingolato che cosa guarda che figato è una casetta andata ah sto spaccando pure il veicolo mi sa perché io avevo già un gioco di questa questa casa produttrice che era oh non mi ricordo più construction qualcosa che è simile a questo però è più bruttino non c'è il free roaming non c'è niente è basato a missioni così alla cazza che selezioni su una nafta non c'è una vera epode storia fai avanti demolisci con quello demolisci con quell'altro pompa i veicoli e finita lì eh eh sì allora vogliamo far piano piano qua perché ci sono le casse dai spacchiamo e poi io sono pieno di simulatori qui come avrò 30 se non di più ho anche quello dei pompieri che non ho mai trovato l'avevo preso gratis da un sito ah dai uno dei miei preferiti è Cosa Eurotracks non è che più come è una figata ho anche il primo però più complicato e macchinoide ma qua sto staccando totalmente il Cosa vediamo un po' non c'ho la chiave inglese sì lo sto aggiustando o no? non lo so ah sì 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 lo sto aggiustando ah c'è ancora questo pezzo vai che figata eh ristrutto tutto quanto fine dell'incarico concludi il contratto oh porco cazzo madonna non so ho spaccato il braccio oh 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 porca trota oh cazzo c'è pure il telefonino nel gioco che rompe se vogliamo stare al passo della concorrenza dobbiamo comprare una nuova macchina ok se hai bisogno di più denaro concludi più contratti grazie la lista è disponibile nel menu principale ok eh io voglio salire in macchina facciamo reto qua così ok ok porco cazzo il braccio un braccio bollato adesso allora o come avrei detto un po' di tempo fa sbombato perché bollato in Piemontese le sbombate quindi sbombate eccolo il cartello via il cartello non servono a niente no scherzo scherzo servono ovviamente qualche colpo di tossing tutte le live devo tirare ma se no non sono contento oh che bel giochino rilassante guarda lì che bravo che sono a guidare eh peccato non c'è il contachilometri niente sarebbe stato ancora più bello e te che cazzo mi spacchi una macchina coglione mamma mia gli stopper li hanno inventati per cosa disgraziato cazzo stiamo per inculare una macchina allora vedi qua gira pure va va è meglio che giri andiamo un po' a comprare un macchinario sempre se ci basta non lo so ok qua c'è un macchinario in vendita oh che bella la draghetta F allora costa 4000 e noi abbiamo 4023 accetta oh ho un paio di ho un piano ma ci serve una macchina in più eh ho un piano ma ci serve meh è appena comprata io la macchina allora di qua no ma io mi chiedo ma se finisco la benzina che cazzo capita ah qua c'è un posto no un parcheggio solo mi sa che la mia azienda andiamo a vedere più in là cazzo vuole l'altro contro mano scoperto campeggio uno qua ah salve eh ma mai più che riesco a comprarlo ho 23 dollari con 23 dollari non sa che che si compra anchezzo questo qua vuole dov'è F eh 4000 che poi pure è poco 4000 per un camion si è mezzo arrugginito ok no tutorial barre affilate le barre affilate possono bucare i pneumati eh ce l'ho arrivato da solo grazie quindi dobbiamo andare a cercare un nuovo contratto mi sa dunque qua campeggio la mia cosa questo escavatore bulldozer no ma che accetto vuoi impostare un punto no allora scenario è qua eh ma non posso comprarlo giocatore negozio bulldozer ma tipo se io voglio fare un contratto provi ad andare qua non ho scoperto accetta prende a vedere cazzo noi lavoriamo anche di notte cazzo c'è non dormiremo mai più basta la live c'è sì yes oh cazzo no eh eh ma ma mi ti c'ha pure la macchina ma io te la spacco sta macchina di merda fatta male a cagare coglione ma si guida così eh anche lasciamo perdere oh la voce dove sta andando a quel paese a qua ah un altro veicolo in vendita sì eh 6.000 che è sempre poco ma 6.000 ma tipo allora contratti qua ce ne sono ah ecco facciamo questo mostra sulla mappa accetta e andiamo a fare questo contratto perché non mi è venuto prima vabbè così almeno abbiamo scoperto un negozio e un veicolo in vendita e c'è è calata la nebbia silent hill da me c'è la nebbia oggi sembra silent hill vai gira 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 non si fa ma noi lo facciamo lo stesso e qua no ah lì c'è forse il campo da fare lì campeggio dunque di qua sì caricamento peccato che pieno di caricamento ok abbiamo quasi finito la benzina tra l'altro dunque di là trena di qua così sì forse eh ma sì ma c'è anche la mappa sotto ma sono un coglione cazzo faccio non guardo c'è il gps e la miseria allora parcheggiamo qua abbiamo bello è finita la benzina F allora abbiamo bisogno di un'azienda che demolisca le pareti interne di un edificio e che rimuova i residui di un altro edificio ok 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 noi spacchiamo demolisce ma qua avrò bisogno della sì mi sa proprio di sì yes allora qua c'è il parcheggio F eh il bulldozer eccolo qua stacca tutto ah devo demolire anche la dentro sì demoliamo l'altro 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 ok mancano qui quel pezzo là di muro dai ma la devo demolire col bulldozer oppure devo entrare così il martello no mi sa che devo andare su col martello ma cazzo faccio salire con il bulldozer quindi allora i sensi del ragno erano questi ah che bello a me piace un casino distruggere la roba dai spacca sul muro ok meno male che c'è un po' di fisica va e giustamente lui qua rimane su intero e l'altro si fa campo poi qua ah c'è anche questo vero sì dai allora lì allora qua ho spaccato un muro che non dovevo ah no anche questo a me è male ho preso malissimo ho detto no ho detto no cazzo vado a una città adesso devo pagargli il muro dai dai che trova giusto che puoi fare ho completato finito e abbiamo completato un altro lavoro concludi il contratto 800 dollari finchia 1450 dollari sul suo lavoro costi zero beh allora eh ma dobbiamo prendere un altro contratto perché non ci bastano i soldi ci vuole 4000 eh dov'era contratti ah qua c'è un altro 1000 sto qua invece 1500 facciamo questo ci serve caricatore compatto ah però con martello pneumatico io non ce l'ho bulldozer facciamo questo ma dove cazzo sta non è lontanissimo piccato ok eh guidiamo vai dunque te lo devo girare cacchio si sposti signore ah ha lussi l'incidente eh sì l'ho toccato vaffamare vai abbiamo quasi finito la benzina è vero e adesso e che succede t carburante secco quando finisce il carburante poi deve fare riferimento eh rifornimento nel menu veicolo ah meno male perché se dovevo andare dal benzinaio la vanno ai cazzi allora rifornisci ok dunque posso passare qua in mezzo anzi il gioco mi dice di farlo andiamo fuoristrada aspetta aspetta poi di qua poi ah tipo una scorciatoia una bella scorciatoia va allora ok ancora avanti la la frena ah ma mi ha portato dal camion ma no ma io non volevo quello contratti mostra sulla mappa ah non ho messo il coso ma ma che testa di cazzo ma tipo ok pigliamo il taxi no come cazzo si fa il taxi non puoi prendere il taxi mentre sei ah sei in veicolo vaffanculo si quanto abbiamo speso era per per evitare di fare un casino di strada f pick up consegna ok mappa accetta che cocomero che sono stato vai gira dunque qua ok potevo anche venire a piedi allora prima ci devo demolire un vecchio muro perché è pericoloso per il lavoro in seconda battuta elimina i cespugli che crescono nelle vicinanze ha un aspetto orribile ok da quant'è che sono in live sss 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 già da 40 minuti allora io devo spaccare il muro ma 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 passa sopra demolisci ah devo venire con la la draga ah ok dunque il parcheggio dove sta il parcheggio è qua ma che coglione che sono consegna eccola quanto è comodo sta cosa demolisci è la Completato Qui c'è spugli Cazzo la visuale Sassi qua c'è spugli Sì E' questo Scusami Ok Apri 8 Qua non c'è Sì che c'è Volevi fare il furbo Qua E Ok 12 E ne mancano Ne manca uno Dove cazzo è stato l'ultimo E se vi butto questo No non me lo voglio Dove cazzo è stato l'ultimo Ci spuglia Ah forse l'ho visto No Eccolo qua Ok Anche questo lavoro fatto Concludiamo il contratto Dai 1422 euro Ci sta Allora Poi vediamo un po' Contratti Bello questo L'ultima consegna di auto Nella nostra discarica Che è stata lasciata Nel posto sbagliato Spostala nel modo Che ti sembra più comodo Poi demolisci Il recinto di legno E' vecchio ormai E' Inutile Mostra sulla mappa Qua Accetta Vediamo la mappa Ehm Mappa qua Ah è vicinissimo No non è vero Ma Ma me l'ha messo? Io non capisco Porca troia Ma Allora Contratti Mostra sulla mappa Ah è qua Ah ma Che cazzo Accetta il contratto Ma porca miseria Ero davanti Allora Volevo solo Vedersela live Andava ancora Oppure no Sì Ci siamo Ci siamo Allora Passa sopra Quindi mi serve Il bulldozer Ehm Bulldozer Ok E' qua il parcheggio F Bulldozer F Demolisci Demolisci Cioè Passa sopra Ma devo buttarle qua giù Ah sì Dobbiamo buttare giù Le macchine Qua nel pantano Adesso Sei Adesso Lo spessimo Che bello Chi è Chi è su console Si perde Ste perle Di giochi Non so C'è su console Mi sa proprio di me Anche Mechanic Simulare Che bello E' rimasto Anche Un botto Dai 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 Butta giù No io voglio che siano dentro E' un lavoro Ben faccio Dai Ok Per questo Devo scattare Ok Ah poi ce n'è Un po' là Ecco Un po' abbiamo finito La benzina Anche di sto robot Che sarà un casino Di soldi Ok Sensi dell'armuratore Ah là Ah Ah là dietro Non ho male Eccolo lì Lo sapevo Allora Veicoli Che cazzo eh Non pick up Lui Carburante Riferisci Come cazzo Buttiglio Senza tenere Pronto Dai Andiamo giù di qua Ce la fai a salire Obiettivo completato Concludiamo anche questo contratto Il bar Allora Vediamo un po' Però forse Stavo pensando adesso Che non ho preso Il coso Pleumatico Dunque Dov'è il negozio Qua Allora Negozio Questo Accetta No forse ho sbagliato Vediamo un po' Ah no Qua è per comprare Discarica Scenario Giocatore Zona Ma io volevo Il negozio Di ferramenta Questo è il ferramenta Negozio di attrezzo Eccolo Oh sono già arrivato Mamma mia Sega elettrica Ok Martello Demolitore Sparacchione Saldatore Ma Io non so Ma tipo Dov'è Contratti Questo Ah qua serve La sega elettrica Il bulldozer Però qua Mi serve Caricatrice Con martello Pneumatico Io dove lo prendo Martello Pneumatico Scusami Scusami Gioco Io pensavo Si prendesse qua Allora Mappa Allora Campeggio 3 Non me ne frega niente Escavatore Discarica Regozio di attrezzature Ok Ok La tua azienda Ma tipo Dov'è Veicoli Questo No Questo Ah ma ce l'avevo Ma va Fangulo Quindi possiamo andare a fare il contratto Allora Questo qua Mossa sulla mappa Accetta Però Non ho Il taxi Però qui Si Eh Le scorciatoie Facciamo Dunque Però io vorrei La macchina Qua c'è il parcheggio C'è il porcheggio Porcheggio La macchina Pick up Allora Dunque Su di qua posso salire Vero Dai Yeah Sto pick up Qua è un amore Ah Là sopra Poi Di qua È l'uma file Parcheggiamo Accettiamo il contratto F Accetta il contratto Allora Demolisci Io voglio Il mio coso qua Caricatrice compatta Consegna C'ha già il coso davanti Si Allora Adesso Spacchiamo Tutti Non so come si usa Però Ah Possiamo Poi tagliare Sopra Ok Taglia La sottile Parete di Metallo Facciamo le cose Con ordine Come chiede il gioco Se riesco a salire Su Ok Ok Vai No Dai Ho una paura di cadere E magari si muore Non lo so Non so neanche se c'è una vita In suo corpo Dai prima falo Ok Eh questo deve cadere E andiamo qua sopra Ma che figo Ma che figata è Aspetta Qualche difficoltà Però posso abbassare Ma non ho un braccio Ok Ah però per di così non posso Indietro Dai Ma forse potevo anche a mano Non lo so Io non so Come faccio però Ah più di così non va Anche così Vabbè non c'è rivali Che cazzo faccio Ecco qua Forse basta Che viene visto sopra Cade giù E spacca il pezzo sotto O forse vuole che lasciamo il muretto E non so E non so E non so Eh perché più di così non va Cazzo robo 4796 Ma che draugio sono diventato Un suo robo qua Scendi Cazzo robo qua Cazzo robo qua Cazzo robo qua Dietro Non l'ho già portato ieri sera Su gioco però Poi mi ero infognato overwatch Anche se andava tutto a puttane Laggavo in un po' del cazzo PlayStation dell'embre Ok però non posso Forse spaccare Eh si aggiustiamo Così E come cazzo faccio E come faccio Spaccare per terra E non va Ma scusa Muovi Cambia camera Cambia stazione radio Tutto ora Siamo solo del lavoratore Ah Aspetta No ho sbagliato Ah Ecco Ah così era Una cazzata Mi ero già preoccupato Che si è buggato un po' Spacchiamo la mia No Ok No sono uscito per sbaglio Cazzarola E' la miseria Continua ad alleggiare Questo roba qua Il martellatore Dai Manca poco Manca poco Ma si va bene così vai Oh Altri Uncchia 1800 1816 Allora Menù Poi era Dove cazzo dovevamo andare A prendere il veicolo Adesso abbiamo 6000 2000 E qua No Qua Posso andare In taxi No Si Ma io voglio andare lì Ma non vengo qua Si Andiamo a comprare il veicolo Poi Da quant'è che faccio La live E da Un'oretta Poi Credo quasi quasi Di concludere qui Più di un'ora Sui simulatori Non Non so se vale la pena Fare più di un'ora Di live Vediamo un po' Più che altro Poi rimane un po' pesante Perché non è che è un gioco Che puoi Commentare chissà che cosa Quindi Rimane un po' pesante Da guardare Ah ecco qua Ecco qua Compriamo il camioncino Via un po' For sale Ah ma era solo 4000 Fanculo Ok Ok siamo pronti Per gli investimenti Possiamo comprare E sviluppare gli immobili Ok Avanti Per concludere la costruzione Sulla proprietà Dobbiamo completare Una serie di compiti Vai alla location Segnata e compra La proprietà E andiamo ancora A vedere sta cosa Ma Ho solo più 2000 soldi Mi sa che non bastano Mi sa che non bastano 2000 dollari Cazzo frena Uuuu Incidente evitato Allora Se sta qua passa Passa Sì Allora Vediamo un po' Frena Frena Eh già è vero Che ho scaricato la beta Di Metal Gear Survive Voglio poi provarlo Magari dopo Dopo sto gioco qua Porto ancora una live Su quello Affittati ai turisti Che arrivano Ok Acquista Vuoi acquistare Accetta Ah Ah ma stava 1000 Guadagno 2000 Ok Trasporta le ruote Accetta l'incarico Facciamo ancora Questo incarico Allora Devo prendere le ruote Consegna Trasporta le ruote Nel container Sì Allora Facciamo Lui là Perché sarà gatta 30 frame Gioco Scheda video Adesso poi stacco 980 ti hai Poi ti faccio riposare Un secondino Mentre io Mi piglio Un bel caffè E un occhi E vaffan cucciolo Allora Quante sono le ruote 5 Le abbiamo già ficcate Le ficchiamo La quarta Dov'è la quarta Eh oh Adesso mezz'ora Per trovare le ruote Ah ma Grafica Graficamente Non è malvagio Stavo per dire Mi piace abbastanza E non è chissà che grafica Però Poteva anche Essere peggio Ecco Adesso l'ultima ruota Tre anni Per trovarla Qua dietro No Eccola qua Volevi eh Nasconderti dietro l'erba Allora La parte più bruttina L'abbiamo fatta Poi Carica col caricatrice Compatta La sabbia Sul camion Allora Dobbiamo prendere Il camion E lo metto Aspetta Calma E prima facciamo Veicoli Caricatrice Compatta Che è questa Che è questa Mi togliamo via Questa Le faccio Toglierla Io voglio La pala In salda Ok Allora Chiamiamo lei E poi il camion Perché prima faccio Entrare la Caricatrice Compatta Consegna Chiamiamo anche Già il camion Così lì Camion Ok Allora Non arriva nessuno Ma da aspettare Aspetta lì Va a far tutto Allora Andiamo a giù Con la caricatrice Compatta Piano Piano Camion Vai 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 Ma mi sa che lo porterò Tutto in live Sto gioco Dai Così quando Ho un po' di nervoso Che voglio rilassarmi Faccio una live Sto gioco Poi Se nessuno mi guarda Allora Adesso Ho fatto bene No forse Ancora un po' Dai Così dovremmo Bassare Eccola Qui la caricatrice Allora Ok Qui devo vedere I comandi Così sale Cazzo Ancora un po' Poi mi sa che Cambio Ok R Senza Vittoria Lesci Con Q Ah lì che figata Invece è La rialzo Ah Ha anche dei comandi Abbastanza umani Sto gioco Non ne ha troppi Non sono troppo difficili Ecco Vai lì No Ok Dietro piano piano Basta Un po' un caso dai ci abbiamo così fatto dai oh no dai per uno perché mi è uscito un goccio fuori così, basta già ok andiamo avanti andiamo in su ok, ci abbiamo fatto così dobbiamo consegnare il carico ah tra l'altro sulla mappa ho messo ah consegna quello verde mazzo ho buttato un birillo ah ma consegna era qua vicinissimo allora entriamo in retro come fanno i bravi camionisti vai oh my god non ce la fa vai che ci puoi fare camion oh non ce la fa dai che cazzo però entriamo col muse se non ce la fa in retro dai ah ma io volevo scaricarmi ah ok fatto finalizza oh quasi lavori completati quasi uno fatto esperienza 750 ah abbiamo fatto un livello mi sa mi sa di si il tuo livello licenza è cresciuto veicolo camion attrezzatura pistola sparachiodi nuovo lavoratore bene allora rispondiamo ancora al telefono per il nostro per il nostro prossimo progetto e lì abbiamo bisogno di un camion ho contrassegnato il luogo dove lo vendono ma io ce l'ho già il camion ma scusa quanti camion mi fa comprare sto gioco si può salvare giochi il gioco salva il gioco il gioco ha salvato niente io direi che per questa live è tutto io ringrazio chi mi ha guardato e ringrazio anche chi mi guarderà più avanti buona domenica a tutti ciao